Sembrava imminente, i vertici dei partiti di centrodestra avevano garantito tra martedì 2 e mercoledì 3 maggio arriverà l'ufficialità sul candidato presidente della regione molise. Eppure ciò non è avvenuto, anzi la riflessione è aperta e si stanno ancora testando i nomi. Quello di Francesco Roberti, sindaco di Termoli, è il più caldo grazie al gradimento del suo partito Forza Italia, seppure non al completo, di Fratelli d'Italia, dell'amico senatore Costanzo Della Porta e della Lega, il coordinatore Michele Marone è stato presidente del Consiglio Comunale proprio nell'era Roberti. E allora perché la situazione non si sblocca? Il motivo è che il senatore e segretario regionale di Forza Italia Claudio Lotito, che sta ascoltando, recependo istanze, dialogando con Donzelli e con gli altri big nazionali, sta effettuando delle valutazioni incrociate, anche perché su Roberti ci sarebbero delle resistenze da superare, queste almeno le voci di corridoio delle ultime ore. Sul tavolo c'è ancora il nome di Michele Iorio, amico del ministro Raffaele Fitto e supportato dal leader regionale di Fratelli d'Italia Filoteo Di Sandro, da sempre intenzionato a tornare a guidare la regione, ma c'è anche quello di Vincenzo Niro, segretario nazionale dei popolari, la cui figura avrebbe preso quota in queste ore in considerazione di esperienza e trasversalità. Riflessione aperta anche su cosa farà Iorio nel caso in cui non sarà lui il candidato. Correrà in solitaria, nonostante mesi fa lo abbia escluso, l'accelerazione che sembrava essere stata impressa all'indomani dell'ufficialità di Roberto Gravina, candidato del centro-sinistra, ha subito nel centro-destra una piccola frenata e sembra che tra i motivi ci sia proprio la voglia di dare corpo al miglior competitor.